i bomboloni alla crema che meraviglia io li mangerei sempre però un attimo bisogna andarci piano la mia ricetta è quella di paoletta del blog di anice cannella è stata una delle prime qua sul web a trasmettere questa sua passione per gli editati si ho fatto qualche modifica per aumentare un po le dosi ma è quella ed è infallibile volete vedere come la preparo ci pensa natalia però voi prima iscrivetevi al mio canale youtube e se vi piace questo video mettete anche un like partiamo iniziamo a preparare un primo impasto allora prendiamo circa 120 grammi 125 grammi della nostra farina la mettiamo in una ciotolina poi aggiungiamo acqua e lievito e diamo una girata ecco qui basta così sarà una specie di colla poi la copriamo con una pellicola e la facciamo riposare circa un'oretta in questa oretta di attesa preparatevi tutti gli altri ingredienti perché il burro che dovremo poi aggiungere dovrà essere a temperatura ambiente e se vi rimane un pochino di tempo vabbè leggete un libro trascorsa un'oretta il nostro impasto avrà già fatto un po di bolle e adesso lo andiamo a lavorare o in ciotola oppure se avete anche la planetaria con il gancio per gli impasti lo versiamo unite intanto metà del vostro zucchero e iniziate a mescolare unite anche metà del vostro latte è arrivato il momento della buccia di limone e se l'avete mettete anche un pochino di estratto di vaniglia oppure addirittura anche già i semini della bacca è il momento di aggiungere un po alla volta anche la farina ok adesso via il cucchiaio e continuate ad impastare con le mani unite tutto lo zucchero e aggiungete gli altri ingredienti fino ad esaurirli certo se avete una planetaria vi risparmiate tutto questo lavoro dovrete lavorare molto l'impasto se lo fate a mano almeno una ventina di minuti una volta che avrete già ottenuto il vostro impasto già compatto iniziate ad aggiungere il burro che dovrà essere morbido man mano la lavorate vedrete che diventa sempre più liscia sempre più lucida a quel punto per riuscire a maneggiarla meglio la potete trasferire direttamente sul tagliere l'impasto è bellissimo liscio morbido adesso io la lavoro ancora perché va sbattuta devo attivare il più possibile il glutine se voi invece fate questo lavoro in planetaria dovrete portarla all'incordatura incordatura significa quando l'impasto si arrotola tutto e si stringe intorno al vostro gancio e quindi quando vedete che il vostro impasto si stacca bene dalle pareti è diventato bello lucido e sta tutto intorno al gancio vi potete fermare mentre io adesso la lavoro ancora un po' per sviluppare bene il glutine e adesso è arrivato il momento poverina di farla riposare quindi la rimetterò in ciotola coperta e la lascerò lì per un'ora e mezza circa fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume ecco qui il nostro impasto lievitato adesso dobbiamo stenderlo e ricavare i nostri bomboloni cospargete il piano un pochino con la farina e capovolgete l'impasto allargate leggermente il vostro impasto con le mani e facciamo una piega 3 per renderlo ancora più forte poi dopo stendetelo col mattarello all'altezza di circa un centimetro l'impasto è steso e adesso ricaviamo i nostri bomboloni utilizzate delle formine tonde e scegliete la misura che volete dare al vostro bombolone io scelgo questa media se volete che i vostri bomboloni non si deformino soprattutto in levitazione e anche dopo in cottura è importante che quando li andate a coppare il vostro impasto sotto non sia in tensione perché l'avete steso col mattarello e quindi potrebbe essere tirato quindi sollevatelo leggermente e poi andate a tagliare i vostri bomboloni riunite i ritagli e stendeteli di nuovo per fare altri bomboloni continuate fino ad esaurire tutto il vostro impasto e una volta preparati tutti i bomboloni lasciateli riposare almeno altri 30 minuti poi si va a friggere iniziate a preparare l'olio allora io uso vi consiglio di usare un olio di semi di arachidi oppure un olio di girasole alto leico perché entrambi mantengono molto bene il punto di fumo la nostra frittura deve avvenire in olio profondo quindi mi raccomando usatene parecchio se avete un termometro misurate la temperatura dell'olio a circa 170 gradi se non l'avete provate sempre con il manico del cucchiaio lo inserite dentro e se fa le bollicine la vostra temperatura è pronta allora l'olio Mentre l'impasto lievitava io ho preparato la mia crema così adesso è perfetta per farcire i bomboloni ma prima dobbiamo passarli nello zucchero Questa è la ricetta dei bomboloni vuoti all'interno col vuoto che poi va riempito con la crema se invece vi piacciono i bomboloni un pochino più consistenti allora la ricetta è sul mio blog ecco qua pronti e farciti con la crema naturalmente potete anche utilizzare nutella marmellata quello che volete io questi li porto alle ragazze ma questi li assaggio subito ciao iscriviti al canale